E' il diyorore di lunedì un canza 3, vediamo se riuscirà nuovamente ad appassarlo signori e signori Ricordiamo il grande passato del numero 1 Donato Argentiero, vincitore delle ultime 11 edizioni di questa fantastica Gymkane qui a Cenevesapiche degli ultimi otto, e ripeto, otto campionati assoluti. Finora è il vincitore di tutte e cinque le precedenti Gymkane di questo campionato 2014 e cerca di riproporsi proprio qui, nella Gymkana più importante, quella della sua città, a cui è molto molto legato. E signori, già in fase di rientro, il numero uno Donato Argentiero di Gran Velocità è pronto ad affrontare la penultima in Sicilia del percorso, il 3,7 e il 60, quindi ultima per noi, forse un lato, per noi, per noi, per noi, per noi, per noi, per noi, per noi.